Volevo cogliere anche l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale, grazie ragazzi per supportarmi e come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale per chi non si è iscritto, anche perché la maggior parte delle persone che guardano il video non è iscritta, ragazzi tanto è gratis, aiuta solamente a supportare il canale, quindi portare nuovi contenuti, migliorare il tipo di contenuto quindi iscrivetevi al canale e lasciate un like, appena parte il video subito, like e iscrizione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, oggi con il gruppone, siamo un bel po' lago di Scanno Destination ho visto il video ho visto il video di questo, facevano male l'orentia solo il video ora ho il DBkiller poi, però l'ho modificato perché la parte finale era tappata, io l'ho tagliata se vedi infatti c'è il buco e via, ora si parte, andiamo verso il lago di Scanno, un bel giretto pure oggi e con sta giornatina poi, guarda che giornatina, tutto sereno ragazzi niente, alla fine col fatto che si è fatto un po' tardi direzione è cambiata, non si va più al lago di Scanno ma andiamo al Terminillo, se non ho capito male quindi direzione è terminillo perché comunque alla fine pure quello è un bel giro cioè, si sta a vedere Sisi Irvano Siamo arrivati quasi in cima al Terminillo Sì, sì se per dire ti mettono una novella siamo arrivati in cima un po' cosetta caffettino ci maniamo qualche cosetta anche se te la mettono abbiamo maniato panino con la lonza sarsiccetta secca vado e mo tra un po' si riparte che mangiata ragazzi buono 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 Silvano, Silvano 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 Grazie. Grazie a tutti Comunque questa cosa non è riuscita fuori Dopo un pochino che ho la moto accesa Mi si accende la spia dell'olio Non ho capito perché Il livello c'è, l'ho controllato Il livello sta bene Quindi non lo so Comunque Spalda non sa che stava la A quei chioschi la Comunque Spalda non lo so Ci hanno pure fermato i sbirri Stamattina qua Fortunatamente non ci hanno detto nulla Tutto a posto, tutto in regola Stamattina praticamente non ho potuto registrare perché C'era la batteria che non era completamente carica E mi ha abbandonato Quindi ha dovuto Cambiare la batteria Fortunatamente ce n'è un'altra di scorta Che panorama comunque pure acqua Fortunatamente non è un'altra di scorta Fortunatamente non è un'altra di scorta Fortunatamente non è un'altra D aproximazione Fortunatamente non è un'altra di scồng Ragazzi come sempre Io vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare un like E commentare Per farmi sapere Se l'inquadratura Questa qua che adesso l'ho messa sotto Se preferite questa O quella che ho utilizzato Per tutto l'arco Delle Dolomiti E qualche video successivo Fatemelo sapere qui sotto Nei commenti Poi vi ricordo Se volete anche di seguirmi Su Instagram Trovate i link in descrizione al video E sulla pagina Youtube del canale Volevo cogliere anche l'occasione Per ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale Grazie ragazzi per supportarmi E come sempre Io vi ricordo di iscrivervi al canale Per chi non si è iscritto Anche perché la maggior parte delle persone Che guardano il video Non è iscritta Ragazzi tanto è gratis Aiuta solamente Aiuta solamente A supportare il canale Quindi portare nuovi contenuti Migliorare il tipo di contenuto Quindi iscrivetevi al canale E lasciate un like Appena parte il video Ciao giupido Like e iscrizione Grazie ad